Amici 22, Wax va in finale e fa Aaron, i fan sbottano, raccomandato, una vergogna. Scoppia la polemica social dopo la semifinale di Amici 22 in televisione. Sabato 6 maggio è andata in onda la penultima puntata di questa fortunatissima edizione del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi, durante la quale sono stati svelati i nomi dei concorrenti che accederanno alla finalissima. Tra questi spicca quello di Wax che, al ballottaggio finale, ha battuto il collega Aaron. Scatenando però un'ondata di feroci critiche e polemiche sui social. Nel dettaglio, la semifinale di Amici 22 trasmessa sabato sera su Canale 5 è stata incentrata sulle ultime sfide che hanno portato poi alla proclamazione dei concorrenti che hanno conquistato l'accesso alla finalissima di domenica prossima. Mattia, Isobele e Angelina sono stati i primi tre allievi che hanno conquistato la fatidica maglia della finale. Maddalena, invece, è stata la prima eliminata della semifinale e, successivamente, c'è stata la sfida al ballottaggio eliminatorio tra Aaron W Wax. Ad avere la peggio è stato il cantante del team di Rudy Serbi, Aaron è stato stato fatto fuori dalla gara dal collega Wax e ha dovuto rinunciare alla finalissima. Sta di fatto che, questo verdetto della giuria è arrivato nel corso della penultima puntata di Amici 22 di sabato sera. Ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche tra i fan social. In moltissimi, sui social, si sono infuriati per la vittoria di Wax e l'accesso alla finalissima di domenica prossima. Al punto da considerarlo un raccomandato. Che verdetto scioccante, ditemi che è solo uno scherzo, ha scritto un commentatore del talent show sui social. Wax raccomandato, non c'è altro da dire altrimenti non si spiegherebbe il suo accesso alla finale, ha scritto qualcun altro in rete. Assurdo che chi non sa cantare sia arrivato in finale solo perché capace di scrivere sempre le solite quattro cose su delle canzoni che nemmeno sa cantare. Ha sentenziato un altro utente dopo la semifinale del talent show di Maria De Filippi. Un circo questa semifinale di Amici 22, davvero una vergogna. Aaron meritava di vincere e battersela comunque con gli altri finalisti di quest'anno. Ha scritto ancora qualcun altro sui social dopo il verdetto della semifinale. I giudici vanno assolutamente sostituiti nella prossima edizione. Quest'anno hanno fatto un pessimo lavoro. Eliminando dei concorrenti talentuosi e bravi per davvero, ha sbottato ancora un altro utente della trasmissione Mediaset.